Come sta accadendo a Roma? Ho preso dei pipponi da parte del direttorio del Movimento 5 Stelle sulla questione morale e ho sempre risposto che la questione morale è fatta dalla storia delle persone e dalla loro credibilità. Credo che con questa vicenda romana si spazza una volta per tutte via l'idea che qualcuno nel nostro paese, a qualsiasi livello sia il depositario della legalità, della verità e del senso dell'etica pubblica. Ci sono donne e uomini e ognuno risponde per la sua storia. Pensavamo e speravamo che dopo mafia capitale, dopo gli arresti per corruzione e dopo il sistema cominciasse una pagina nua. Io non sento un giorno che apro i giornali nazionali che si parli di un problema che possa interessare i cittadini romani, si parla solamente di poltrono e di poteri forti. Quindi un po' di tristezza, anche da Napoli l'avvertiamo. Io non sono un leader di un movimento politico, non faccio politica come il 5 Stelle, che ormai sono un partito e ahimè, sempre più simile a certe volte anche nei difetti rispetto ai partiti che loro criticano. Faccio il sindaco di Napoli e mi dispiace perché i primi passi sono stati caratterizzati tutti da poltrone. Addirittura ho sentito evocare i poteri forti quando sono tutte nomine che hanno fatto loro. È veramente imbarazzante quello che si sta vedendo. Io mi firmo a questa, un'analisi da sindaco e da componente dell'Anci.